Prego, parliamo del raviolo di Sesto Calende, nel quale abbiamo il marchio depositato in comune. Voi sapete che Sesto Calende è il paese dove c'è l'incontro tra il fiume Ticino e il lago Maggiore. Quindi all'interno di questo raviolo il suo ripieno è formato proprio da pesce persico che è tipico.